Ciao ragazze, benvenute al nuovo tutorial modifuggi del laboratorio creativo di Chiara. Oggi vi voglio presentare questi due attrezzi meravigliosi, indispensabili ad ogni creativa e sono gli... acconciamoci! Che cosa sono? Sono due squadrette, sembrano due cornicette di due misure diverse ovviamente ho una più grande da 25-30 cm e una più piccola da 15-20 cm. A cosa servono queste due squadrette? Semplicissimo, a realizzare i capelli belli. Capelli belli quindi una cociatura da bambola che sia la crocchia, che siano i codini, che sia un'altra forma a cappello sciolto o di lato, insomma ci aiuterà a realizzare una capellatura che sia degna di ogni bambola ovviamente. Ma andiamo a vedere nello specifico che cosa serve. Allora prendiamo come ovviamente esempio una testina già pronta, quindi può essere una testa gigantesca così oppure può essere anche una testina un po' più piccola, tipo questa qua, della nostra bimba. Vedete io qua ho fatto i codini. Quindi sia che abbiamo una testa così grande che una testina così piccola il meccanismo non cambia. Cambia ovviamente la struttura e la dimensione della squadretta. Come facciamo a prendere la misura? Semplicissimo, prendiamo del filo di lana, qualsiasi. Ovviamente più il filo sarà sottile come questo. Come indicazione vi do più o meno con i ferri del 3,5-4, tanto per intenderci che quando andrete a comprare, ad acquistare la lana in merceria insomma avete un'idea. Allora quindi se è sottile dovremo fare più giri. Ovviamente se la lana è molto grossa di giri ne basteranno di meno, perché ovviamente fa più volume. Prendiamo la nostra testa. Allora decidiamo che tipo di acconciatura, perché a seconda di quello che dobbiamo fare ci vorrà o più lungo o più corto. Quindi, per esempio, voglio fare i codini. Allora i codini parto dal centro della testa e faccio scendere il mio pezzettino di filo, che può essere anche un metro da sarta, e lo faccio arrivare fino alla lunghezza del mio codino. Più o meno ho finito così. Vado sulla squadretta e vado a vedere che misura ha. 20 centimetri. Ok, quindi io dovrò utilizzare la squadretta con la freccetta da 20 centimetri. Voglio essere sicura che magari in colso d'opera, cambio idea, voglio fare le trecce. Ovviamente le trecce, i fili intrecciati, si accorciano. Allora per sicurezza, anziché stare proprio risicati a 20, faremo invece i 30 centimetri.